musica 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 ok benvenuti ragazzi io sono anghesus e oggi siamo sulla nazlock challenge su pokemon platino non sto perdendo neanche un secondo si proprio così perchè elvis ok ok pensavo comunque stavo dicendo non posso perdere neanche un secondo perchè oggi ho parecchie cose da fare e per cui cincia wow ah tra prende supportato mobile di 35 per cui questo episodio forse verrà un pochino più corto degli altri perdonatemi non uccidetemi sono anch'io una persona o anch'io degli impegni ehm tra prendesi oggi vado a casa di Ale che è un casino che non lo vedo ragazzi so che casino non è esattamente il termine più esatto e non è la lingua italiana ma chi se ne frega comunque cincia non è la lingua oh mio dio anfaros proprio subito così io metto dentro il frego e stavolta per la prima volta ho una mossa speciale per cui caro anfaros ah ma che cappero blaziken poi è molto interessante capire chi è più veloce tra me è blaziken io? no io perchè l'ho paralizzato wow continua a piovere tra qualsiasi quindi la potenza delle mosse tipo acqua è aumentata e quelle delle mosse tipo oh era più veloce no aspetta avrei fatto una mosse tipo star stramontante che poi ho sempre pensato si dicesse star invece stra ah no attacco rapidi dovevo usare ok ok addio sei un po' di tipo alotta quindi e non hai delle difese così alte ok però blaziken mi è sempre piaciuto e a chi non piace blaziken fuori ok livello 37 per flybomb molto molto buono dai rani da davvero fortuna che abbiamo uvidic allora allora mamma mia ragazzi prendere modo di che è stato veramente un colpo di fortuna non indifferente comunque Elvis se non ti dispiacerebbe io ho una palestra da affrontare e se ti sposti mi faresti un grande favore ah a proposito tanto per fare due parole non l'ho ucciso ok questo la dice lunga sulle statistiche di aspetta un attimo c'è terra in pesta attiva why ah oh ok mi stavo preoccupando per qualcosa mi stavo decisamente preoccupando abbi il 16153 per Ty Web tops ok vi vorrà rimettere Anforas con il minimo e io cambio e mettiamo i flybomb ok turno di Anforos e come dicevo prima stavolta abbiamo un nuovo sito speciale eh ma allora si è nato non so fatelo dire Feraligator io me la do Arigato Agilità non mi ricordo se aumenta la velocità o le schivare gli attacchi come è salita lentamente con la velocità l'illusione no la velocità è invece vediamo quanto li togliamo abbastanza ok forse con un extra rapido va giù vediamo uno due e anche un po' tre non ci credo io per il giorno non mi ricordo se va male in base ai danni subiti o alla vita che rimane alla vita che rimane poi uccido il terreno resta grazie oddio funziona finalmente Ampharos l'unico Pokémon rimasto va bene va bene intanto il beccati 3 cospira buio uso cotto sporchi cosa fa a velocità calabico che vabbè 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 Ampharos quando vuoi morire di nuovo eh Idropompa che a funzione mi mancava Ok però non toglie una storia Ok forse ce la facciamo con un extra rapido Questa ve la sto andando a cercare perché potrebbe usare statico No no strano strano Ok abbiamo avuto lo meno su Elvis Allora Va bene va bene va bene Quindi va bene il po' come tipo acciaio va bene Sì l'acciaio Ma sono anche se lasceremo i dick per prima Ma ma sì dai Come ho già detto sono poco le mosse che possono presentare un problema per lui Al 38 Siete un po' doppati forte Tra parentesi Lui ha sempre specchio velo Cazzo Uh è andato giù con un brutto colpo mamma mia C'è una 36 Wow Grazie mi scusi Perfetto Fate passare Ci mancava anche la 4 volte super efficace Ok potrei essere un po' principiante contro questo tizio Però Però Ehi ho corpo scontro Non gli dogli una sera Un grandine Immagino che lui abbia colpo gelo No non ha colpo gelo What? L'abilità hai warning Ok per fortuna gli ha fallito bullo Gli è andato Fenomenale Ehm È confuso Grazie Forse lo shuttiamo Ci ha aumentato l'attacco Quasi E l'abbiamo paralizzato 2 su 2 La confusione non ci colpisce Incredibile Va bene anche se è un leggendario però Ehm Rai Kou Va bene Va bene Va bene Esercito a pressione Ma non mi dire Oh mio Dio Perché qualsiasi Allenatore che è Rai Kou Usa solo attacco Ho paralizzato Rai Kou Questo sì che si chiama ironia Però gli vado Stasciata Ma come fuà Ma come fuà Hai ragione anche tu, il volo non è molto efficace Eh, questa è stata una brutta idea Però, hey, abbiamo extra rapido Ok Non l'avevo visto, giuro Geloraggio, per sicurezza Super efficace, ciao, ciao Ragazzi, ma mi sta incapitato un sacco di top Quindi, terra, roccia Cosa di cose, non che mi lamenti Ok ragazzi, ho fatto la strada indietro E ci siamo Ah, questo mandaglio, questo minopoli, va bene Mi sorprende, questo devo imparare Siamo quattro ferruccio, che è il suo padre E ho altresì detto mia E non voglio sapere il passato di Oh mio Dio, che brutte cose Medici Proverai con un surf Spero che non abbia tuono puglia Lo spero veramente, lo spero di non shottarlo Una delle due cose Ok, la seconda si avverrà Goldeen Non ti fa un banale Al cuore non tu, no, no Oddio, so se la cascata Nooo, aspetta, io sono male Non so quanto mi faccia Mi fa parecchio per essere Io ho tentato No C'è un così, va là Oh mio Dio, qua nello Oh mio Dio, qua nello Vediamo contro Bafuria A per forcorno Ragazzi qua il Goldin A per forcorno Se gli va O meno male Oddio non tento un'arco Ti prego Ti prego Stai scherzando Che ansia Oddio ha fallito L'ansia L'ansia che ha fatto venire quel Goldin Oh mio Dio Sì Perché siamo proprio tipo acqua in questo stand E soprattutto sui pesci Non è che ho mangiato pesci a pranzi Però Con Feebas Davvero Ti tiro una Dora del Furia Voglio colpello E infatti Mi ha dato anche troppo di punti di sparenza Se vogliamo stornire Fortisci Allora Effettivamente il Goldin mi ha fatto spaventare Medaglia Cava Va bene E metti 91 Vediamo un po' cos'è No non ho letto la mossa 91 91 Sto pensando di allenare SHIELD SHIELD Moby Dick Non sarebbe una cattiva squadra Basta ricordarci di non usare a surf Ah si giù il macelle va bene MN004 Ah! Un'altra parentesi ragazzi Qui posso catturare un nuovo Pokémon Aspetta un attimo Innanzitutto wow che tempistica L'AXIO L'AXIO mi piace Comunque stavo dicendo che Porca miseria In questo caso ho uno spazio vuoto che si riempirà Vabbè la troviamo l'AXIO Acciaio non davvero? NOOOOOO Ma veramente Davvero potevo trovare male Dando miglioriamo la potenza dell'acqua Nel fuoco scusate Ho un po' dell'acqua L'AXIO 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 L'AXIO